Eccoci a Locarno Garden, l'ammobiliare, questa nuova iniziativa per il 70esimo festival, uno spazio che decisamente mancava, dunque è molto benvenuto, avete visto, è pieno di gente, sono le 23 di venerdì 4 agosto e le persone rispondono, quindi un applauso al comune, allo sponsor privato, è molto meno organizzato, a parte forse tre cose, là in fondo, dove suonano i gruppi musicali di solito, questa sera non ci sono, non è molto invitante né andare a vedere né a suonarci, immagino, anche se il suono è ottimo, l'ultima cosa, vedo molta gente che traballa in questo trucciolato, porta i tacchi, non è il massimo, e poi vabbè, i prezzi di certi bar, un po' da discoteca, anche se non siamo in discoteca, comunque, come avete visto, è molto ben apprezzato, veniteci.